Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do benvenuto qui al canale siamo su FarmySemuletro22 nella nuova mappa che si chiama la vecchia campagna agricola, dovrebbe essere un'impostazione di una campagna francese in teoria da quello che posso aver intuito, ci troviamo su una mappa diciamo di medie dimensioni, siamo sui 61 terreni non tanto grandi da quello che posso vedere, vediamo un attimo diciamo sì il 32 siamo sui 5 ettari e 50 più o meno, come partenza siamo in modalità facile come sempre abbiamo un budget di 100 mila euro, possediamo il 126, il 43, il 40 e il 120 per il momento, è un remake come potete vedere qua del 22, come colture abbiamo le solite colture e ci sono i ceci, le lenticchie, il mandorlo e il pistacchio come extra diciamo extra budget e per quanto riguarda produzioni già preimpostate ne abbiamo due, abbiamo il feed master che non so se ha proteine per gli animali, il fertilizzante digestato, qua bisognerà prendersi il biogas, poi basta, allora partiamo proprio da qui, si parte proprio da qui, il punto di spawn è questo e con il nostro diciamo quad andiamo a farci un giro, un giro andiamo in farm, ci troviamo in alto a destra e credo sia proprio il caso di tornare, come sempre prima di continuare con il gameplay, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicione su the million like, commentate e condividete, giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio, qua come vedete siamo arrivati alla filanda ma abbiamo completamente sbagliato strada o completamente, torniamo indietro, molto bene allora sto arrivando in farm in teoria, se non la smetti di laggare, dovrei trovarmi la farm sulla sinistra, eccola qua, eccola qua, è una farm anche abbastanza grande, vedo che abbiamo un bel po' già di fattorie di animali volevo dire, molto bene, abbiamo un bel po' anche di cappannoni e adesso dobbiamo comunque iniziare a far qualcosa perché qua, altrimenti la vedo dura, eccoci, perfetto, molto bene, allora questo abbiamo già come potete ben vedere dei mezzi, dei primi mezzi, il che va anche bene, eccoci qua a casa, ok, questi sono i polli proprio davanti alla porta non è interagibile la fattoria e che, vabbè, ma l'ho spento, questo bisognerà eliminarlo prima o poi facciamo un giro della casa perfetto, qua c'è, qua cosa c'è? boh, un silo abbiamo il nostro silo di base che contiene già dei prodotti, un milione e cento ma non credo che sia multifruita anche se, vabbè, bisognerà verificare, abbiamo già una trebbia cominciava ad aprire i cancelli, abbiamo già la trebbiolina, vabbè allora, cosa bisogna fare innanzitutto? e a che periodo siamo? siamo in agosto siamo in agosto, si potrebbe già seminare il colza come terreni ve li ho fatti vedere prima abbiamo il 43 da trebbiare perché è a colza no il 43 sul 43 ci sono le lenticchie ah, si comincia proprio da lì a bomba proprio si comincia proprio a bomba volevo capire un attimo perché se vedete qua io ho un terreno vorrei intanto capirci qualcosa allora, le lenticchie domanda non ho controllato minimamente intanto le offerte che non ci sono se questa barra questi due simboli aspettate che purtroppo non ho sì sì bene, allora cominciamo subito ora cogliere le lenticchie ce la facciamo? meglio chiuderla, sì allora meglio che il nostro terreno è al di là del 31 noi siamo qua dobbiamo andare a sinistra però adesso che vedo il 31 è di là per cui dobbiamo uscire di qua andare a vedere cosa sono questi prodotti nuovi allora vediamo il terreno dovrebbe essere questo qua a sinistra se non ho cannato completamente vediamo che si apre l'imbolla la trebiolina diamo un'occhiata alla coltura queste sono le lenticchie lenticchie sì pronto per la raccolta bisognerà capire innanzitutto se i terreni sono in analisi ma non credo perché esatto ce n'era un altro sbaglio di terreno ne ho solo due uno, due ah, il 40 nel 40 cosa c'è scusate ah, i ceci anche i ceci spara subito le colture al massimo vabbè vabbè mi spara già tutte le colture vabbè non importa visto che è una mappa nuova sta bene anche vedere subito il nuovo dice lui perfetto abbiamo già usato un po' di budget per per darci dentro allora vediamo un attimo di e io gli ho detto di partire quassù e lui mi fa sempre partire dove c'è spinta vuole lui vabbè così scopriamo subito eccolo qua se mi fa paglia a occhio sì a occhio sì esatto era già impostato bellissimo la prima coltura nuova perfetto molto bene allora cominciamo a dare un po' di sprint a sta trebiolina e vorrei capire dov'è il primo punto ok allora lui qua naturalmente adesso va un po' in autonomia e noi ci prendiamo un bel John Deere perché questo John Deere ha abbiamo un bel po' di trattori che comunque è disponibili perché non fa male dobbiamo recuperarci il cassone che dovrebbe essere qua ha un equipaggiamento di ruote un po' particolare vabbè questo è l'unico cassone che abbiamo carrelli sì ma non mi dire questo tiene anche l'uva vabbè ci sarà un po' da da buttarci un po' l'occhio e da capire non è sicuramente una mappa un po' collina sì ci sta bene vediamo se ci passo di qua senza star lì a far tutto il giro sì non ho questa non l'ho capita comunque questo metodo di fermarsi ora qua potrei già anche reimpostarlo e tanto lui dovrebbe stare fermo qua andiamo soltanto a dare un'occhiata posso? ah eccola qua sì dai non male bene allora non so non so non so lo so non so però non abbiamo la modalità raccolta paglia sì qua non è che mi da da vedere questo forse non lo so andiamo in farm ah guardate questa non l'avevo ancora vista questa dovrebbe essere tutta l'attrezzatura per il nocciolo questo orzo proprio minerali minerali non so precisamente da dove li prende fuori ma non mi interessa per il momento potrei iniziare dal concime e dal digestato comprandoli ma vediamo un attimo poi qua ci sono tutti i stecchettini qua olive magazzino olive bene magazzino mandorle molto bene abbiamo i nostri magazzini perfetto qua c'è il fertile master qua deposito liquidi bene anche questo i pistecchi molto bene per cui le mandorle quando abbiamo finito di raccogliere noi no 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 sto dicendo una castroneria sto dicendo una castroneria no nulla di che qua invece letame interessante qua invece pietre non c'è proprio il magazzino ogni cosa ha il suo magazzino questo è il silos generale la letame pietre la ci sono tutte le nuove colture qua c'è un deposito e questo cos'è qua c'è un deposito perché pascolo per pollame 70% grano e proteine ah interessante ma il problema mio è capire questo cos'è sto disgraziato qua a cosa può servire perché allora mi noleggio questo per fare quel lavoro lì così che trattore posso prendermi questo un T8 sì sì vediamo prima di trovare il negozio ora che sono al negozio ho la netta sensazione di aver già visto questa mappa però non vorrei oh no o mi sbaglio io ma forse mi sbaglio io il negozio è più o meno vicinissimo a casa per cui allora dovrei arrivare al al 43 eccolo qua io direi di cominciare a raccogliere sta paglia magari mi serviva un un ranguinatore anteriore ma anche no sì dai non c'è sì una grossa produzione di paglia comunque rispetto al frumento in questo t8 tira tira molto bene eh ma sempre qua devo beccarla siamo pieni e dov'è che entriamo aspettate un attimo perché anche qua c'è qualcosa forse e così siamo messi bene credo che un paio di giri ce la caviamo con questa paglia non c'è che sia granché poi i terreni bisognerà lavorarli tutti perché sono tutti da sistemare non è assolutamente un problema comunque nuova cultura diciamo che si è tranquilla è tranquilla perché vedo che il cassone che è là non so quanto c'è vediamo 27000 litri ok che il terreno è proprio a zero comunque con tutto però ci sono dei cappanni qua che vedete secondo me acquistandoli qua cosa c'è vabbè adesso vado a vedere perché sto cercando i cappanni un po' particolari ops ok allora qua siamo quasi sì secondo me ci sta tutto perché bello sto cassone qua una bella cosa che vedo è che non ci ci sono sassi per cui non c'è bisogno di di lavorare il terreno oltre alla semina basterà solo sistemarlo col ph e il gioco è fatto allora per quanto mi riguarda qua abbiamo terminato faccio io perché se no perfetto e anche questa coltura abbiamo vista ci resta quell'altra ma credo che quell'altra a questo punto la vediamo nel prossimo gameplay qua come siamo messi ci sta qualcosina no ma allora finiamo qua prima anche se vabbè non è che si sia sto granché di paglia ma vabbè l'ultimo tanto per riempirlo ma non è tutto il tempo perso allora questo allora scarico qua questo questa la portiamo un po' più diciamo fuori da qui in modo da capire anche come gestire qua e questo vai ce la fai sentilo lo portiamo in farm che devo capire dove scaricare allora vediamo si mi scarica le lenticchie eccellente se 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 allora non ho una struttura una struttura non ho niente per la calce viva però eh devo prendermelo per forza allora volevo prendermi questo che vabbè mi costa però 6 metri compra questo è preso una volta per tutte lasciamo giù il cassone che è a noleggio andiamo al negozio allora punto di domanda io non ho ancora naturalmente nessuna nessuna produzione eh per cui devo comprarla la calce viva allora erano 16.020 vabbè non credo sia necessario così tanto di riempirlo ma per mille litri esatto va ben così e sistemiamo quel terreno in teoria si spera allora stavolta vado a casa per di qua vediamo se si riesce a fare qualcosa di più perché sono tutte stradine in cui tutti in fili esatto vedete lì non so cosa c'è qua è chiusa figuriamoci tagliamo di qua perché questa è bella eh la stradina chiusa non me l'aspettavo qua andiamo a campi esatto vabbè facciamo un giro tanto ormai credo che io tra un po' mi fermo qui come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale pollicioni su dei milioni se non l'avete ancora fatto commentate condividete giù in descrizione ho dato tutti i link per seguirmi e supportarmi allora siamo proprio fuori rotta e devo trovare la zona la via di casa vediamo eh si è proprio a zero sto ph eh però 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 fermo zio e che è tutta sta furia valore aratura richiesta vabbè l'aratura ce la spipogliamo dopo allora pensavo di evitarla ma non avevo letto e fatto i conti non penso di poter piazzare l'operaio classico perché a meno che io qua non vado a dritto e poi tolgo quel pezzettino lì così lui però si vorrebbe dire fare un piccolo soltanto ma si lo faccio partire da là in teoria non dovrebbe avere problemi tipo da qua si si arrangia quello che non fa poi sistemo io naturalmente il problema è il casino che poi trova allora qua abbiamo ancora del lavoro da fare non ho capito perché si è spento sto motore cos'è eco power finisco di scaricare la trebbia ci possiamo anche salutare fatemi sapere no voglio andare a vedere qua fatemi sapere cosa ne pensate della nuova mappa qua credo ci siano solo si cappannoni non c'è niente anche se magari lì c'è qualcosa non mi dà l'accesso perché è ovvio perché non è mia però guardate cosa hanno creato il lelli si fa tutto questo giro a sinistra vedete poi gira giù qua evita la iola vedete guardate che giro e entra in 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 fattoria nell'allevamento no pazzesco molto bene carino carino devo dire allora l'operario classico se l'è cavata molto bene io qui mi fermo perché ormai andare al primo episodio è ovvio che non posso fare molto visto la scarsità di fondi questa si è spenta non si sa perché guardate che velocità molto bene io comunque per il momento mi fermo qui vi ringrazio per essere qui in mia compagnia vi do appuntamento al prossimo gameplay ciao a tutti grazie alla prossima ciao ciao ciao